Sono accusati di concussione e tentata concussione in concorso Marta Santoro e Antonio Petillo, rispettivamente sovrintendente comandante della stazione del Corpo Forestale dello Stato di Focesele e sovrintendente comandante della stazione del Corpo Forestale dello Stato di Capaccio. Entrambi sono stati tratti in arresto e in esecuzione di fermo d'indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno. L'operazione è stata eseguita questa mattina dai carabinieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli inquirenti, i due, abusando della loro qualifica di pubblici ufficiali, avrebbero più volte avvicinato imprenditori operanti in vari campi nei comuni di Agropoli e Capaccio, facendosi consegnare denaro contante in cambio di un omesso controllo da parte degli appartenenti ai loro comandi. Sono stati proprio gli imprenditori, stanchi ed esasperati per le continue e pressanti richieste, a denunciare i due comandanti. Marta Santoro e Antonio Petillo sono stati condotti dai carabinieri presso la casa circondariale di Salerno Forni a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel corso dell'operazione, i carabinieri hanno eseguito una decina di perquisizioni domiciliari, tra cui anche le sedi dei comandi del Corpo Forestale dello Stato di Focesele e Capaccio e hanno sequestrato materiale ritenuto utile per le indagini.